È un Fiat Doblò 1.3 Multijet Euro 5 immatricolato nel 2014, unico proprietario. Qui la poesia è superflua. Si tratta di un veicolo che fa della praticità d'uso il suo punto di forza, ma in questo caso la forza raddoppia poiché stiamo parlando di un autocarro 5 posti, fiscalmente deducibile al 100% e con IVA altrettanto detraibile. Naturalmente se avete una ditta, un'impresa, una società o che dia si vuole. Se sei un privato, niente paura, non c'è nessun limite all'utilizzo, solo il vantaggio del bollo a 40 euro circa all'anno. Allora forza, chiama subito per ulteriori informazioni o mandaci un whatsapp. Ciao!